Salve a tutti amici e amici di Scazzone di Roma e siamo di nuovo finalmente su Attila Total War Dopo non so quanti decenni, ere geologiche, ere dei dinosauri E io mi ero dimenticato della situazione di merda in cui siamo, scusatemi, passatemi il termine Perché guardate, gli uni non me ne sono reso conto nell'ultimo turno ma stanno assediando Gustavin Delicorum e Oburzis, ragazzi E noi stiamo soffrendo una brutta carestia Allora, come mi è stato detto da Fabio, Fabio mi ha detto guarda scazzo, punto 1 Smettere di fare il cazzone e smettere di offrire soldi e destra manca Ok, lo faccio, non ti preoccupare E punto 2, trincerati, come mi hanno detto anche altri di voi, ad Augusta Treverorum O comunque sul fronte orientale dove probabilmente ti faranno un culo tanto Che dovrai andare dal tuo chirurgo estetico e fartelo rifare Il fatto è che la carestia è un po' un problema e dobbiamo cercare di riequilibrare I campi perché dato che il nostro caro Jerry Scotti non ha luoghi in cui poter coltivare il suo dannato riso Noi dobbiamo fargli un campo recintato che però ovviamente aumenta lo squallore e il disordine pubblico Come se non bastasse ulteriormente Ma all'indom diciamo che va più che bene perché lo squallore non c'è E speriamo che vada bene, anzi per sicurezza Però cavolo, 4 turni, ragazzi noi siamo già morti Voglio farvi presente, 4 turni sono tanti A Corine Grippina dovremmo riparare questo Così da avere ancora più cibo per i campi Però sicuramente tamponerà il nostro problema Passiamo questo turno Veramente è una situazione schifosa Abbiamo questa mini terra di confine devastata Che non serve a nulla Perché veramente poi qui hanno già smesso C'è questo esercito che già noi soffriamo la carestia Dovessero arrivare i unni Nei nostri territori sarebbe la fine dei nostri uomini Non avrebbero più cibo Non saprebbero più dove trovare cibo E comincerebbero a fare un po' come i cannibali a mangiarsi tra di loro Un po' come successe nello schianto dell'aereo Quello della nazionale, non mi ricordo Direi in Cile, nelle ande Scusatemi ragazzi ma sono stanchissimo Mi sono svegliato per registrare E sto dormendo Sto dormendo Chi è che mi sveglia dal mio sonno? Logoramento Ecco lo sapevo, stiamo logorando Affare di stato Il tesoro nascosto, lealtà assicurato Grande faramondo ha assicurato il nostro Andica Qui piano piano ci stiamo riprendendo Ma guardate qui veramente Augusta Vindeli Cioè sono tutti ad Augusta Vindeli Corum Io dico sempre No ragazzi Ma noi ci trinceriamo ad Augusta Vindeli Corum Non c'è nessun problema Sta ceppa Non c'è nessun problema Ah facci Hanno i guerrieri War scelti Questi fanno un casino I fan tria del bosforo Mamma mia ragazzi Allora qui come va la situazione con la guerra contro la settimania Ma piuttosto bene A parte questi che stanno qui a camperare a Genova Stanno facendo il G8 in questo momento a Genova Acqua e Sexti Vienne e Narbo Non lo so Se Gusium sono vuote Potrebbero tranquillamente attaccarli Sti rimbambiti Invece che stare lì a trincerarsi tranquillamente Vediamo cosa è l'affare di stato del giorno Il nostro Gotelab Abbiamo trovato una grande riserva di oro Nascosto in una cava durante le stazioni minerale Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo migliorare l'ordine pubblico Io penso che offrendola al popolo Noi miglioreremo l'ordine pubblico Perché quei dannati parassiti Che sono il nostro popolo Hanno bisogno di un pochino di soldi Giusto? O mi sbaglio? Noi non dobbiamo aumentare altra roba qui Perché dobbiamo ottenerci un po' di soldi Per questa colonizzazione Che alcuni di voi mi hanno detto Guarda la colonizzazione non ti è utile Ma io lo ripeto ragazzi La colonizzazione mi è utile Dal momento che comunque posso permettermi Così di poter avere più entrate di cibo E debellare questa carestia Vi aggiorno su una campagna Che ho avuto tempo di fare poco tempo fa E che era sui Unni Ho rifatto una campagna sui Unni Ancora più scazzone di quella precedente Perché i ragazzi non so come mai Ma con gli Unni non riesco a fare una campagna decente Nel senso che Parto con tre eserciti Tempo dieci turni Me ne ritrovo uno Un esercito Con gli Unni non posso fare nulla Ho provato a razziare Di nuovo l'impero romano d'oriente Mi hanno portato un botto di eserciti E sono andato a scappare Nella scizia più settentrionale Il punto più nord orientale Ecco Io ero lì Mi sono ripreso Ho creato un altro esercito Ma mi hanno distrutto gli anti Non mi hanno distrutto Ma mi hanno devastato un altro esercito E quindi è come se fossi stato Il punto di partenza Logoramento Qui sto perdendo troppi uomini Per questa cavolo di carestia La durata della carica Finalmente ora devo rimetterli La fame Vedete ragazzi Mi sono assegnata Sconfiggi Unni Ma sì Ma potete anche Il mio consiglio Beve vino Ma pesante La paura delle steppe Ha così tanta paura di me Del mio faraondo Che in realtà Non gli preoccupo per nulla Però Tecnicamente potrei anche uscire Da Londra Ma ora come ora Non voglio Non fare nulla Però Ci stiamo logorando Ma tra due turni Finalmente abbiamo due campi Veramente Sarà Una manna venuta dal cielo Come si può dire Eccoli qui Quei maledetti Venedi Che Non è venerdì Ma venedi Che sono arrivati qui Nelle Alpi E non so A fare cosa Anche qui I sassoni Cosa fanno Invece di stare A gingillarsi Allora Io direi di Indirizzare i miei sforzi Su Juni Ragazzi I nostri alleati A me sarebbe piaciuto Vedere Su questo Total War Una mappa Un pochino più grande L'hanno già aumentata L'hanno resa più grande Ma Ad esempio L'India Secondo me Sarei morto Dalla felicità Nel vedere almeno Un pezzo di India Perché Le fazioni indiane Sono state molto importanti Nel corso della storia E secondo quelle della Sian No Non capisco perché Cause naturali Gerlinde è morto Non me ne frega niente Ma non era la moglie di Faramundo Logoramento Banchetto Attenzione Dalle terre circostanti Tutti si recano da te Per il banchetto Come dei veri accattoni Ragazzi Come il nostro muratore Che ha ammazzato Elmerich Qui ora arrivano Tutti gli accattoni Come dei barboni A mangiare da noi Quindi abbiamo un miglioramento Con i sassoni Perché ovviamente I sassoni sono dei barboni Ma vedete Siamo dei grandi amici Con i sassoni Noi C'è qualcosa che non mi quadra Qui ragazzi Dove sono finiti Tutti i nostri amici Germani No ragazzi Ma come mai I longobardi Gli angli E turingi Hanno preso I bagagli E se ne stanno andando E hanno distrutto Le loro terre E perché i ruggi Allora È un buon fattore Perché poi potremmo Colonizzare Ed espanderci Però Gli alemani Non possono scappare Dalle loro terre Perché sono sotto assedio Madonna ragazzi Madonna Mi sa che ci toccherà Fare anche a noi così I sassoni Non so perché Non prendano E se ne vadano Ma loro mi sa che Questi longobardi L'hanno vista lunga Anche i nostri amici angli Che cosa Cosa stanno facendo Come anche I marcomanni Puramente Puramente Italiano Simone È un option Prendono E se ne vanno Perché scappano Dagli uni Vedete come la situazione È tristissima La situazione Siamo io e i gali Ragazzi Un amore Un amore eterno Destinato a morire Soffocato dagli uni Finalmente la carestia È scomparsa Per ora Ma non appena Un esercito Anche un solo esercito Uno rientrerà Nel nostro Dannato territorio Sarà la fine Qui stiamo risalendo Finalmente un pochino Di soldi Di soldi Stiamo reintegrando Piano piano Gli eserciti Loro magari Non facciamoli correre Perché sennò Poi si stancano Vediamo se magari Con un po' di soldi Riesco a raggiungere Il punto Che mi sono prefissato Richiede un pagamento Hanno accettato Bene Gli alemanni Che già stanno Mamma mia Guardate questo Questo tizio Con questa Specie di corona Placcata Che cerca di coprirsi La pelata Ma lui non ci riesce E quindi Deve farsi vedere Come mamma Lo ha fatto Allora Longobardi Mi hanno dato 300 Vediamo se Questi barboni Viandanti Siamo soltanto Come un tempo I franchi Alleati con I sassoni Un tempo Eravamo solo noi E ora siamo rimasti noi Perché gli unni Sono venuti A farci la sorpresina Salve amico mio Gallo Davo un po' di soldi Mi hanno dato 600 Ragazzi Molto bene Adesso posso colonizzare Finalmente Dopo 30.000 turni Posso colonizzare E mi serve Soltanto per aumentare Gli introiti Ragazzi Colonizza vai E infatti Come aveva detto Riccardo Metà dell'esercito Mi andava a quel paese Però vabbè Guardate Abbiamo già un quasi mille Con questa colonizzazione Di Corinium E la Britannia sarà Ragazzi Voi me lo dite sempre La Britannia sarà Il nostro punto Di salvezza Perché come gli alemanni Qua stanno Soffrendo la vita Contro la morte Anche noi E qui invece sono salvi Perché vi ricordo Eildon è Diciamo una sorta Di paradiso terrestre Attualmente Se la Scozia Era considerata L'inferno Dai romani Adesso la Scozia È il paradiso terrestre Quindi lasciamo Un attimo Qui a Corinium Il nostro caro Faramond Anche se vorrei Toglierlo E sostituirlo Vediamo di sostituirlo Non si può sostituire Per ora Congelare Non si può Ripariamo questo A Greggia di Capre E passiamo Il turno Veramente ragazzi Non so come muovermi Non ho idea Di come muovermi Sia perché voglio muovermi E non farvi aspettare 30-30 mila Episodi Fisso Così E però è anche vero Che io sto pagando Le conseguenze Della mia azione Scellerata nel passato Cioè conquista più Non posso Senza fregartene Dell'economia Del paese Ma guardate qui Hanno fatto terra bruciata Non penso Oh la pupa pazza Stanno arrivando Stanno arrivando gli uni Stanno arrivando gli uni Vediamo l'ordine pubblico Ad Augusta È infatti Meno 5 Porca miseria Porca No allora Se loro arrivano A Colonia Agrippina È la fine Perché io non c'ho niente Da Colonia Agrippina No c'è verso Fame Di già È vero Perché basta un esercito Uno e siamo finiti Ci fregano il cibo Questi Queste zecche maledette Allora dobbiamo Sistemare un attimo Questo incidente diplomatico Purtroppo non sono stati In grado di impedire Uno dei nostri ospiti Di dare spettacolo Ha insultato gravemente La nostra nazione Abbiamo appena il ricevatore Caramo ufficiale Che lo riguarda Io direi di imprigionare Questo maledetto Così impara a insultare Il nostro divino faramondo Allora qui stiamo riprendendo Se noi uscissimo da qui Va bene Allora ci stiamo Stiamo entrando Piano piano dal Londini Rimaniamo un attimo Perché sennò soffriamo Il freddo appunto Il logoramento Però questo è Magor Non lo conosco Magor Signor Magor Sistemiamo un po' l'economia Qui vediamo Metterei più 5 Attività produttive O se no 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 Ok abbiamo sbloccato Ragazzi la classe militare De RIT Non c'è stato Un momento migliore E qui più integrità Più capacità di movimento No onestamente È un po' troppo Permette la costruzione Di macchine a sedio E tempo di resistenza Più 1 Per le città portuali Va più che bene Vediamo se posso Riqualificare Sì posso Abbiamo riqualificato Guardate che fighi Ragazzi Gli Airban con Francisca Sono bellissimi Oh mio dio Oh mio dio Che stupendi Intanto riqualificiamo Posso anche riqualificare Loro Guardate qui Signori germanici Con lancia Ragazzi Spendo tutti i miei soldi Così ma non mi interessa Non riqualificato Solo un altro Qui non posso riqualificare Allora io porto Lui a Colonia Grippina Perché Il mio timore È che ovviamente Raggiungendo Colonia Grippina Me la conquistino Me la rasino Me la radano al suolo Loro possono arrivare Soltanto A Colonia Grippina Augusto Treverone Duro Cortrum Che conquisterebbero subito Non ci possono arrivare Devo lasciare un attimo Sguarnita la capitale E quindi è un problema Ma solo per un turno Perché se io provassi A attaccare a loro Io guardate ragazzi Ho un esercito Devastato che tra l'altro Non ha neanche Un recupero Vorrei poter fermare lui Ma non ho soldi Faramondo deve ritornare Ma veramente So già che voi mi direte Simone distruggi tutto Lascia perdere La La fascia costiera Della Francia No ragazzi Io ho speso troppi soldi Partecipai Contro gli uni Maledetti Partecipate No Non partecipo Contro quelli Che già sono forti Nel sud Lì in Africa Figuratevi Se poi dovessero attraversare Tutta l'Europa Per venirmi ad ammazzare No Oh mio dio Lo sapevo No quella è una spia Ok Sta arrivando Un altro esercito Dobbiamo giocare D'astuzio ragazzi E quell'esercito Lo facciamo fuori Portiamo l'esercito Di Scazzogna Di Augusto Treferoro Incontro di lui Finchè arrivano A Scaioni Uno uno Possiamo farcela Se arrivano tutti Siamo finiti Dobbiamo dire addio Alla Francia Ma non ora Resisteremo ragazzi Resisteremo Saremo l'ultimo baluardo Della cultura europea In occidente A parte che i galli Potrebbero anche darmi una mano Imiltrud Chi era la moglie Era la moglie Di Faramonda E morta Non ci posso credere Tesoro nascosto Il popolo è molto felice Quindi contentezza Più ordine pubblico E più cinque del commercio Ed è già qualcosa ragazzi Però accidenti Non ci posso credere Imiltrud Faramonda è di nuovo Senza moglie Ma sei uno sfigato Ti do la moglie E ti muore Cerca E' una moglie A parte 64 anni C'è già l'erede L'erede diretto Sa Sai che è Faramonda Per me puoi schiantare Senza moglie Vediamo se c'è qualcuno Che è poco Benevolo Nei tuoi confronti Toidbald Non capisco perché Toidbald Sia così basso Assicuriamogli una piccola lealtà E anche a veri neri Il nostro carroce spuglio Però Qui È male È brutta la situazione È brutta brutta Hanno anche un agro Bello grande Noi ci mettiamo Se noi attaccassimo Con questo esercito Il nostro Il nostro Arriva Forza Forza Ok Allora loro c'hanno Cazzo Knockor Ma che Che cavalieri sono io Non li ho mai sbloccati Questi sono Super ponzi Sono Arcieri del diavolo Fantina del bosforo Mio dio Questi sono fortissimi E io c'ho una cavaleria Scrausa Noi la combattiamo In Foresta Rada Ragazzi La combattiamo So che magari Non avete È molto scontata Ma non lo è Se io adesso la gioco Le falci della bestemmia Il nostro comandante Non so chi sia Non è faramondo Ancora Ma Abbiamo già un esercito Poco logorato Abbiamo una mobilità Pari a zero Loro hanno questi Dannati arcieri A cavallo Che la mia cavaleria Verrà devastata Abbiamo i reietti Di scazzo Del nostro dio Che per fortuna Arriveranno in aiuto Di Toidbald Ah Toidbald Ok Mazza se muore Toidbald Inizia lo schieramento Voglio vederci bene Già con la foresta Rada Non ci vedo un tubo Da dove arrivano gli alleati Arrivano da qui Allora Noi dobbiamo stare fermi Perché Non abbiamo mobilità Non abbiamo nulla Loro hanno un agro Quindi la cavalleria Noi la facciamo passare Lontano da qui Qui dentro Nella foresta Rada Ci mettiamo Qua dietro E ci mettiamo Toidbald Ancora qui dietro Però loro Tutti li portiamo qua dentro Che Io non voglio essere bersagliato Dall'un agro Quindi Eccolo qua l'un agro Lo vedo di già ragazzi Stranamente Guardate come sono grossi Cioè sono Sono enormi Questi unagri Ma che agitata hanno Oh mio dio Hanno una agitata enorme Ok Allora dobbiamo portare la cavalleria Più velocemente possibile Qua dentro Se loro non mi vedono Io posso fargli L'effetto sorpresa Per un bel po' Guardate Toidbald Come si sta nascondendo Qui nella Nella sterpaia I suoi uomini Se la stanno facendo sotto Fermi ragazzi Allora Restate qua Dobbiamo fare fuori L'un agro Prima di tutto Però ci sono questi Che stanno camperando Questi arcieri Diavolo dell'unno Ok Chi è questo Che sta arrivando Andika Andika sta arrivando Oh Ekebert Ho mandato Ekebert Contro Iuni Oh mio dio Ekebert Se mi muore Se mi muore L'erede al trono A faramondo È la fine Dobbiamo resistemare Questo esercito Che sta entrando Facciamolo entrare tutto E poi lo resistemo Siamo troppo Troppo assolutamente Deboli Cioè abbiamo delle unità Troppo deboli Questi si stanno resistemando Dannazione Oh mio dio Se cominciano a spararmi No no Non devo temporeggiare Non devo temporeggiare Dobbiamo prendergli una grida dietro Non capisco perché Loro stanno fermi Eppure Non mi hanno ancora visto Ora si mi vedono Eccoli In arrivo Allora Resistemiamo l'esercito Loro sono fermi In quella cacchio di foresta Allora Vediamo qui Questa cavalleria Veramente non serve a nulla Portiamola qua dietro Per aggirare Vediamo questi nuovi Erban con Francisca Come sono Oh mio dio Che fighi che sono Ragazzi Guardateli nella loro possanza Con le loro spadine E queste scarpe Brutte Antiestetiche Però va bene Ai baffi Alla faramondo E ti perdono Quindi Io avevo i bagaudi Non me ne sono neanche reso conto I signori germanici con lanci Invece come sono Bellissimi anche loro Guardate Cioè Fighissimi Sono anche Sono medi Devo dire No sono pesanti Altro che medi Allora E hanno anche la possibilità Di indistruttibilità Cacciatore di teste Non so se da Rom Ve lo ricordate Allora Mettiamo tutto Un lungo fronte così Andando piano ovviamente Andica Andica Non lo teniamo Subito così Poi I signori germanici Li teniamo Così Facciamo un secondo fronte così Poi facciamo tutti gli schermagliatori E teniamo questi schermagliatori Questi arcieri In linea Uno Cioè in prima linea E abbiamo anche gli unagri Che però Sono leggeri Se potessero sparare su questi Mi farebbero un favore Allora C'è la cavalleria Che però deve muoversi rapida Questi si sono accorti Dannazione Che io Ho mandato la mia cavalleria laggiù E devo prenderli più larghi Proviamo ad attaccarli Vorrei mandare solo una cavalleria qui L'altra cavalleria Depistiamo Usiamo questa cavalleria Per ammazzare loro Voi andate così Dobbiamo finire l'unagro Perché già sta sparando Vedo Andate qui con la cavalleria Tanto tutto l'esercito È qui rintanato Lo so Lo so che è un'imboscata Eh 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 Lo sapevo Qui si devono sfondare gli arcieri Guardate che volo Gli hanno fatto fare Che volo ragazzi Finiamo gli arcieri Che sono più Pericolosi Oh mio dio Via Non ci posso credere Oh mio dio Erano tutti rintanati qui Bastardi Erano tutti rintanati qui Via via C'è poco da fare Via ragazzi Scappate Dov'è l'altra cavalleria Ok Stanno già sparando i miei unagri I nostri unagri stanno già sparando Molto bene Sparate sull'unagro magari E fate un bel botto Oh mio dio Oh mio dio Mi hanno devastato la cavalleria Non so se ve ne siete resi conto Ma me l'hanno devastata È veramente triste la faccenda Questa cavalleria deve andare via Deve nascondersi Nasconderti nella boscaglia Forza ragazzi Sparate Oh mio dio Stanno sparando anche loro Le forze nemiche hanno distrutto Una delle nostre unità Ok Non mi hanno preso Però devo avanzare Avanzate Chi sono questi Sono i generali Devono stare un attimo qua Se muoiono è la fine Facciamo avanzare anche Toidbald Di gran carriera Ma veramente Il problema sono Oh mio dio Via 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 Stanno arrivando come dei pazzi Stanno arrivando Ok Lasciamo Lasciamo che questa povera cavalleria Faccia da esca Portiamoli qua su Vediamo se magari possiamo Ragazzi cercare di Depistare questi qui Con questa cavalleria Ma Accidenti Questi altri Li mandiamoli verso questo interno Sperando che comunque Non ci sia Eh infatti Invece lo sapevo Eh Ora cominciano con i colpi Addirittura infocati Questi maledetti Mio dio L'hanno fatto saltarinare Quel disgraziato Sta cavalleria Non può fare nulla Ok Loro stanno tornando indietro Portiamoli di nuovo indietro Dov'è Dov'è Eh Ecbert No Toidbald Ok Sta arrivando da qui Forza Ma che gittata C'hanno i miei onagri Non ci arrivano Non è possibile Ovviamente Loro se li portano via Ok Dobbiamo portarli avanti Ragazzi Dobbiamo cercare di poter Avvicinarci sempre di più E Con questa cavalleria Arriviamo da qui Dobbiamo avere pazienza È l'unico modo Cerchiamo di finire Questi denati arcieri Una volta per tutte E dato che comunque L'esercito nemico Vede che io sto arrivando Da sud Loro si girano di qua E magari cerco di arrivare Con questa Residuo di cavalleria Cerchiamo di finire Questi maledetti Perché non ne posso più Schermagliamoli una volta Per tutte Anche se loro C'hanno ancora questa cavalleria E sicuramente Mi sta venendo addosso Andiamo addosso Finiamo con I miei lancieri Che per fortuna Ho i lancieri Contro questa cavalleria Quindi Posso riuscire In un certo qual modo A equilibrare la situazione Ce credo Contro il signore della guerra È un po' difficile Ora Entra ora Entra ora Finisci loro Stiamo facendo Un'imboscata Con questa cavalleria Non si sono resi conto Che sono ancora lì I miei anagli Stanno sparando Molto bene Ok Stiamo dando fuoco Un po' a tutto Come potete vedere Attenzione Questi non l'avevo visti Stanno combattendo Senza che io Me ne rendessi conto No accidenti Non mi sono reso conto Che ci sono Delle truppe Che stanno combattendo E altre Ovviamente Sono in grande svantaggio Mandiamo loro Mandiamo loro qui Va bene Voi entrate in combattimento Abbiamo fatto fuori Quasi l'unagro Gli unagri Devono sparare Sul signore della guerra Non mi interessa nulla Accidenti Veramente triste La situazione Ragazzi entrate qui Ok Circondiamo questi maledetti Andate qui Guerriere con Francisca Fermi tutti Cosa sta succedendo qui Signori germanici Della guerra Pesanti Le stanno buscando Contro la mia Contro la loro Fantria del Bosforo Se noi li mandiamo Contro di loro È la fine Forza Non so cosa sta succedendo Non so cosa sta succedendo È vergognoso davvero Amico mio Mandiamo loro qui Contro la cavallera Non ce la fanno loro Finite questo signore Della guerra Se riusciamo ad ammazzarlo Forse riusciamo ad avere più Bonus nei confronti del nemico Un bonus ovviamente Dal punto di vista del morale Cerchiamo di entrare dentro Perché qui purtroppo I nostri uomini Stanno a soffrendere Non capisco perché si fermano Che loro Stanno sparando Molto bene Molto bene Molto bene Però guardate Veramente ragazzi Spariamo su questi maledetti Noi stiamo arrivando Su di loro Arriviamo gli da dietro Magari Ho dato fuoco A mezza foresta Devo dire che Bene Guardate qui La fantria del Bosforo La stiamo bruciando viva Fermate loro Voi Sparate su di loro Ok ragazzi Abbiamo vinto Ma vi dico Quanti uomini abbiamo perso Abbiamo perso la metà Abbiamo perso metà uomini Qui ora stanno tra l'altro Attaccando i miei uomini Andiamo di finire questi arcieri A cavallo unni Maledetti C'ho ancora una cavalleria Ma andiamola contro Ma veramente Mi hanno devastato Ok E' terminata la battaglia Vittoria di misura Appartenuta soltanto Per un colpo di spada Non mi è piaciuta Questa vittoria Guardate qui La mia cavalleria Che è fino a fatto 1125 perdite Io Le ore 920 Ed erano la metà E' bruttissima questa vittoria Non so davvero Come definirla Le facce della bestemmia Fortunatamente Nessuno dei miei generi È morto Io ho ammazzato Magor Ma adesso arriveranno Altri eserciti E ci faranno la festa Ok Io direi di reclutare Oh finalmente Abbiamo anche vinto Questa missione E dunque abbiamo Una ricompensa Perché abbiamo distrutto L'esercito 1 Nemico ucciso in battaglia Molto bene Molto bene Allora Quell'esercito Direi di lasciare un attimo lì Temporaneamente Di riportare Il mio esercito rima Guardate qui Il mio esercito Di frontiera Quello che doveva resistere Come è stato ridotto Ora loro arriveranno E mi faranno il culo Giustamente Devo lasciare la Britannia Con Faramondo Che dovrebbe farcela Da sola A parte con questo piccolo Esercito di Eblana Per arrivare a Durocorturum E proteggere la situazione Quindi ragazzi Passiamo un altro turno E vediamo cosa succede Veramente brutto Perché se loro ora arrivano Mi mettono sotto Ferra di Fuoco A Augusta Treverorum E Devo soltanto aspettare Faramondo a quel punto Perché l'unica cosa Che posso fare qui È resistere Questo esercito 1 Non so se si potrà Magicamente riprendere Con la forza Dello Spirito Santo E quindi Recuperare tutti gli uomini Vediamo E infatti Ha già recuperato tre unità Non si sa come Porco zio Questa ragazzi Ce la giochiamo dopo In un altro episodio Perché loro Hanno soltanto unità a cavallo Se no con questi uomini Ci mettiamo in difesa E Scudo contro scudo Riusciamo forse A evitare la morte Per proiettili Questi Andranno al macello Toildbald Dannazione Toildbald Qui hanno soltanto cavalieri Quindi non hanno neanche unità A parte queste picche germaniche Devo soltanto rimanere lì Stare fermo E aspettare che mi sparino È l'unica cosa Ditemi voi ragazzi Consigliatemi la tattica da fare Per difendere Colonia Grippina Se dovessimo perdere Colonia Grippina E di conseguenza Il resto della Francia Attueremo il piano B Ci rifugiremo in Britannia Distruggendo tutto Non possiamo permetterci Di perdere questa campagna Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo episodio Abbiamo distrutto Un esercito uno Ma subito Ne arriva un altro Con 900 uomini Noi siamo In maggioranza di 100 uomini Ma vi ricordo Noi eravamo in maggioranza Di 1000 uomini prima E ne abbiamo persi di più Quindi Spero vi sia piaciuto Questo episodio Rimanete in ascolto Per una futura Guerra contro gli Unni E come sempre Ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti